Salve a tutti! Allora, vi volevo parlare del nuovo corso che propongo alla EOI di Terrassa. Sono 15 lezioni di due ore ciascuna ed è pensato per chi ha raggiunto il livello B2. Partiremo da alcune miniserie su italiani famosi come per esempio Olivetti, Montessori, Perlasca, Galileo, Puccini, Marconi. Sceglieremo assieme quali fare, quali ci interessano di più. Sono personaggi molto interessanti per la loro vita, la loro storia e ci permetteranno anche di dare uno sguardo a com'era l'Italia nel periodo in cui vivevano. Vedrete a casa una puntata di 40-50 minuti di queste miniserie e poi, oltre a discutere sulle vicende, sui personaggi, utilizzeremo la trascrizione di alcuni dei dialoghi per ampliare il nostro lessico e magari rivedere alcuni punti di grammatica. Chi ha fatto con me, per esempio, il corso sulla mafia uccide solo d'estate, che era basato su questa serie televisiva, che era già presente, più o meno come lavoreremo. Nient'altro, vi invito a iscrivervi numerosi e ci vediamo. Ciao!